Qual è il risultato? Il risultato è che noi abbiamo uno sbrego nella città che vede tutta la gente, quindi vediamo la trasformazione, la variante e i capannoni, però sul piano formale non ci sono. Capannoni che ci sono e non ci sono, consumo di suolo effettivo e in prestito scelte politiche e percorsi amministrativi. L'ex assessore all'urbanistica di Bassano, Francesco Fantinato, fa la radiografia al percorso che potrebbe portare un nuovo insediamento di Pengo nelle campagne di San Lazzaro. L'amministrazione ha fatto il gioco delle tre carte. Il gioco delle tre carte consiste proprio nell'operazione formale della variante. Il comune di Bassano dispone dal 2020 di una riserva strategica da utilizzare come consumazione del suolo agricolo per altre finalità. Ecco i conti a ettari. 26 ettari sono stati assegnati nel 2020. Bassano dal 2020 ad oggi ne ha già consumati 11. Siccome ci sono dei limiti temporali per fare operazioni di questo genere, al 2033 ne ha ancora due disponibili. Se l'operazione di trasformazione a San Lazzaro la facciamo ora, sono praticamente 10 ettari da trasformare che non hanno capienza nei due che sono disponibili. Insomma, calcolatrice alla mano, si rischia di andare in deficit di suolo consumato. A questo punto potrebbe entrare in gioco la regione inserita proprio nel protocollo bocciato in Consiglio Comunale. L'idea geniale è che l'amministrazione dice, senti regione, io non posso farlo perché non ho questa facoltà per quanto ho a disposizione oggi. Però tu, nella tua autonomia regionale, puoi sempre includere l'area Pengo, trasformata, nel gruzzoletto di quelle che sono le tue riserve strategiche come consumo di suolo consentito. E così, ricollegandoci a quanto detto all'inizio di questo servizio, il nuovo insediamento in San Lazzaro, pur essendo assolutamente concreto, non andrebbe a influire sul conto del consumo di suolo bassanese. In quest'ottica, le campagne diventano una sorta di area fantasma. Anzi, diventa un'area desaparecida. Il risultato è anche doppio da un punto di vista del Comune come interesse per mantenere quella riserva. Anzi, virtualmente, quelle ipotesi di 26 ettari complessivi al 2050, con questa operazione, in cui si prende in carico la regione i 10 ettari, diventano 36. Alla faccia del consumo suolo zero.